Tao Te Ching di Lao Tzu a cura di Luciano Parinetto edizioni La vita felice Milano 1995 Il testo utilizzato per questa lettura proviene dalla biblioteca di Liber Liber ed è stato pubblicato da Arturo Moccia, Claudio Paganelli, Edda Valsecchi, Giuseppe Murati Lettura di Silvia Cecchini, marzo 2007 1. Delinea il Tao Il Tao che può essere detto non è l'eterno Tao. Il nome che può essere nominato non è l'eterno nome. Senza nome è il principio del cielo e della terra. Quando ha nome è la madre delle diecimila creature. Perciò chi non ha mai desideri ne contempla l'arcano. Chi sempre desidera ne contempla il termine. Quei due hanno la stessa estrazione, anche se diverso nome, ed insieme sono detti mistero. Mistero del mistero, porta di tutti gli arcani. 2. Nutrire la persona Sotto il cielo tutti sanno che il bello è bello, di qui il brutto. Sanno che il bene è bene, di qui il male. È così che essere e non essere si danno nascita fra loro, facile e difficile si danno compimento fra loro, lungo e corto si danno misura fra loro, alto e basso si fanno dislivello fra loro, tono e nota si danno armonia fra loro, prima e dopo si fanno seguito fra loro. Per questo il santo permane nel mestiere del non agire e attua l'insegnamento non detto. Le diecimila creature sorgono ed egli non le rifiuta, le fa vivere ma non le considera come sue, opera ma nulla si aspetta. Compiuta l'opera, egli non rimane e proprio perché non rimane non gli viene tolto. 3. Tenere tranquillo il popolo Non esaltare i più capaci fa sì che il popolo non contenda. Non pregiare i beni che con difficoltà sottengono fa sì che il popolo non diventi ladro. Non ostentare ciò che può desiderarsi fa sì che il cuore del popolo non si turbi. Per questo il governo del santo svuota il cuore al popolo e ne riempie il ventre. Ne infiacchisce il volere e ne rafforza le ossa. Sempre fa sì che non abbia scienza né brama e che colui che sa non osi agire. Poiché egli pratica il non agire, nulla vè che non sia governato. 4. Quel che non ha origine Il Tao viene usato perché è vuoto e non è mai pieno. Quale abisso? Sembra il progenitore delle diecimila creature. Smussa le sue punte, districa i suoi nodi, mitiga il suo splendore, si rende simile alla sua polvere. Quale profondità? Sembra che da sempre esista. Non so di chi sia figlio. Pare anteriore all'imperatore del cielo. 5. L'uso del vuoto. Il cielo e la terra non usano carità. Tengono le diecimila creature per cani di paglia. Il santo non usa carità. Tiene i cento cognomi per cani di paglia. Lo spazio tra cielo e terra come somiglia a un mantice. Si vuota ma non si esaurisce. Si muove ed ancora più ne esce. Parlar molto e scrutare razionalmente val meno che mantenersi vuoto. 6. Completa l'immagine. Lo spirito della valle non muore. È la misteriosa femmina. La porta della misteriosa femmina è la scaturigine del cielo e della terra. Perennemente ininterrotto, come se esistesse, viene usato ma non si stanca. 7. Occoltare la luce. Il cielo è perpetuo e la terra perenne. La ragione per cui il cielo può essere perpetuo e la terra perenne è che non vivono per se stessi. Perciò possono vivere a lungo. Per questo il santo pospone la sua persona e la sua persona viene premessa. Apparta la sua persona e la sua persona perdura. Non è perché è spoglio di interessi? Per questo può realizzare il suo interesse. 8. Tornare alle qualità naturali. Il sommo bene è come l'acqua. L'acqua ben giova alle creature e non contende. resta nel posto che gli uomini disdegnano. Per questo è quasi simile al Tao. Nel ristare si adatta al terreno. Nel volere si adatta all'abisso. Nel donare si adatta alla carità. Nel dire si adatta alla sincerità. Nel correggere si adatta all'ordine. Nel servire si adatta alla capacità. Nel muoversi si adatta alle stagioni. Proprio perché non contende, non viene trovata in colpa. 9. Tendere all'incolore. Chi colma ciò che possiede, meglio farebbe a desistere. Chi batte affino ciò che è appuntito, non lo mantiene a lungo intatto. Un palazzo colmo d'oro e di gemme non si può conservare. Chi si fa arrogante perché ricco e nobile procura da sé la sua rovina. Ad opera compiuta, ritrarsi è la via del cielo. 10. Saper agire. Preserva l'uno dimorando nelle due anime. Sei capace di non farle separare? Pervieni all'estrema mollezza conservando il ci. Sei capace d'essere un pargolo? Purificato è mondo, abbi visione del mistero. Sei capace d'essere senza pecca? Governa il regno amando il popolo. Sei capace di non aver sapienza? All'aprirsi e al chiudersi della porta del cielo, sei capace d'essere femmina? Luminoso e comprensivo penetra ovunque. Sei capace di non agire? Fa vivere le creature e nutrile. Falle vivere e non tenerle come tue. Opera e non aspettarti nulla. Falle crescere e non governarle. Questa è la misteriosa virtù. 11. L'utilità del non essere Trenta raggi si uniscono in un solo mozzo e nel suo non essere si ha l'utilità del carro. Si impasta l'argilla per fare un vaso e nel suo non essere si ha l'utilità del vaso. S'aprono porte e finestre per fare una casa e nel suo non essere si ha l'utilità della casa. Perciò l'essere costituisce l'oggetto e il non essere costituisce l'utilità. 12. Reprimere le brame I cinque colori fan sì che s'accechi l'occhio dell'uomo. Le cinque note fan sì che s'assordi l'orecchio dell'uomo. I cinque sapori fan sì che falli la bocca dell'uomo. La corsa e la caccia fan sì che si imbesti il cuore dell'uomo. I beni che con difficoltà si ottengono fan sì che sia dannosa la condotta dell'uomo. Per questo il santo è per il ventre e non per l'occhio. Perciò respinge l'uno e preferisce l'altro. 13. Respingere la vergogna Favore e sfavore fanno paura. Pregiar la propria persona è gran sventura. Che significa favore e sfavore fan paura? Il favore è un abbassarsi. Nell'ottenerlo sa paura. Di perderlo sa paura. Questo significa favore e sfavore fan paura. Che significa pregiare la propria persona è gran sventura? La ragione per cui ho gran sventura è che tengo alla mia persona. Se non tenessi alla mia persona, quale sventura avrei? Per questo, a chi di sé fa pregio a pro del mondo, si può affidare il mondo. A chi di sé è a cura, a pro del mondo, si può confidare il mondo. 14. Introduce al mistero Questi tre non consentono di scrutarlo a fondo, ma uniti insieme formano l'uno. Non è splendente in alto, non è oscuro in basso. Nel suo volversi incessante non gli puoi dar nome e di nuovo si riconduce all'immateriale. È la figura che non ha figura, l'immagine che non ha materia. È l'indistinto e l'indeterminato. Ad andargli incontro non ne vedi l'inizio, ad andargli appresso non ne vedi la fine. Attieniti fermamente all'antico Tao per guidare gli esseri di oggi e potrai conoscere il principio antico. È questa l'orditura del Tao. 15. Appalesa la virtù Quelli che in antico eccellevano come adepti del Tao penetravano l'arcano e comunicavano col mistero erano profondi da non poter essere compresi. Proprio perché non possono essere compresi, io mi sforzerò di darne i tratti. Irresoluti erano come chi d'inverno guada un fiume. Guardinghi erano come chi teme i vicini e i quattro lati. Rispettosi erano come chi è ospite. Frammentati erano come ghiaccio che si va fondendo. Schietti erano come legno non ancora sgrossato. Vuoti erano come valli. Torbidi erano come acqua motosa. Chi è capace d'essere motoso per fare il limpidire piano piano riposando. Chi è capace d'essere placido per far vivere pian piano rimuovendo a lungo. Chi s'attiene a questa via non brama ad esser pieno. E proprio perché non si riempie può starsene nell'ombra senza innovarla antico. Volgersi alla radice Arrivare alla vacuità e il culmine mantenere la quiete è schiettezza. Le diecimila creature insieme sorgono ed io le vedo ritornare a quelle quando le creature hanno avuto il loro rigoglio ciascuna fa ritorno alla sua radice. Tornare alla radice è quiete. Il che vuol dire restituire il mandato. Restituire il mandato è eternità. Chi conosce l'eternità è illuminato. Chi non la conosce insensatamente provoca sventure. Chi conosce l'eternità tutto abbraccia. Tutto abbracciando è equanime. Essendo equanime è sovrano. Essendo sovrano è cielo. Essendo cielo è Tao. Essendo Tao a lungo dura e per tutta la vita non corre pericolo. 17. La pura influenza Dei grandi sovrani il popolo sapeva che esistevano vennero poi quelli che amò ed esaltò e poi quelli di cui si fece beffe. Quando la sincerità venne meno sebbe l'insincerità. Come erano pensosi i primi nel soppesar le loro parole. Ad opera compiuta e ad impresa riuscita dicevano i cento cognomi siamo così da noi stessi. 18. Lo scadimento dei costumi Quando il gran Tao fu negletto sebbero carità e giustizia. Quando apparvero intelligenza e sapienza sebbero le grandi imposture. Quando i sei congiunti non furono in armonia sebbero pietà filiale e clemenza paterna. Quando gli stati caddero nel disordine sebbero i ministri leali. 19. Tornare alla purezza Tralascia la santità e ripudia la sapienza e il popolo si avvantaggerà di cento doppie. Tralascia la carità e ripudia la giustizia ed esso tornerà alla pietà filiale e alla clemenza paterna. Tralascia l'abilità e ripudia il lucro e più non vi saranno ladri e briganti. Quelle tre reputa formali e insufficienti perciò insegna che v'è altro a cui attenersi. Mostrati semplice e mantienti grezzo. Abbi poco egoismo e scarse brame. 20. Differenziarsi dal volgo Tralascia lo studio e non avrai afflizioni. Tra un pronto e un tardo risponder sì quanto intercorre. Quel che gli altri temono non posso non temer io. Oh, quanto son distanti e ancora non s'arrestano. Tutti gli uomini sono sfrenati come a una festa o un banchetto sacrificale come se in primavera ascendessero ad una torre. Sol'io quanto son placido. Tutt'ora senza presagio come un pargolo che ancora non ha sorriso quanto son dimesso come chi non ha dove tornare. Tutti gli uomini hanno d'avanzo. Sol'io sono come chi tutto ha abbandonato. Oh, il mio cuore distolto quanto è confuso. L'uomo comune è così brillante. Sol'io sono tutto tenebrato. L'uomo comune in tutto si intromette. Solo io di tutto mi disinteresso. agitato sono come il mare. Sballottato sono come chi non ha punto fermo. Tutti gli uomini sono affaccendati. Sol'io sono ebete come villico. Sol'io mi differenzio dagli altri e tengo in gran pregio la madre che nutre. 21. Svotare il cuore. Il contenere di chi ha la virtù del vuoto solo al Tao s'adegua. Per le creature il Tao è indistinto e indeterminato. Oh, come indeterminato e indistinto nel suo seno racchiude le immagini. Oh, come indistinto e indeterminato nel suo seno racchiude gli archetipi. Oh, come profondo e misterioso nel suo seno racchiude l'essenza dell'essere. Questa essenza è assai genuina nel suo seno ne racchiude la conferma. Dai tempi antichi sino ad oggi il suo nome non passa e così acconsente a tutti gli inizi. Da che conosco il modo di tutti gli inizi? Da questo. 22 L'umiltà che eleva Se ti pieghi ti conservi Se ti curvi ti raddrizzi Se ti incavi ti riempi Se ti logori ti rinnovi Se miri al poco ottieni Se miri al molto resti deluso Per questo il santo preserva l'uno e diviene modello al mondo Non da sé vede perciò è illuminato Non da sé si approva perciò splende Non da sé si gloria perciò ha merito Non da sé si esalta perciò a lungo dura Proprio perché non contende nessuno al mondo può muovergli contesa Quel che dicevano gli antichi Se ti pieghi ti conservi Erano forse parole vuote In verità integri tornavano 23 Il vuoto non essere Il parlar dell'insonoro è spontaneità Per questo un turbine di vento non dura una mattina Un rovescio di pioggia non dura una giornata Chi opera queste cose? Il cielo e la terra Se perfino il cielo e la terra non possono persistere tanto più lo potrà l'uomo Perciò compi le tue imprese come il Tao Chi si dà al Tao si immedesima col Tao Chi si dà alla virtù si immedesima con la virtù Chi si dà alla perdita si immedesima con la perdita Chi si immedesima col Tao nel Tao si rallegra ad ottenere Chi si immedesima con la virtù nella virtù si rallegra ad ottenere Chi si immedesima con la perdita nella perdita si rallegra ad ottenere Quando la sincerità viene in meno si ha l'insincerità 24 La penosa benignità Chi sta sulla punta dei piedi non si tiene ritto Chi sta a gambe larghe non cammina Chi da sé vede non è illuminato Chi da sé s'approva non splende Chi da sé si gloria non ha merito Chi da sé s'esalta non dura a lungo Nel Tao queste cose sono avanzumi ed escrescenze che le creature hanno sempre detestati Per questo non rimane chi pratica il Tao 25 Raffigura l'origine C'è un qualcosa che completa nel caos il quale vive prima del cielo e della terra come è silente come è vacuo se ne sta solingo senza mutare ovunque si aggira senza correre pericolo si può dire la madre di ciò che è sotto il cielo io non ne conosco il nome e come appellativo lo dico Tao sforzandomi a dargli un nome lo dico grande grande ovvero errante errante ovvero distante distante ovvero tornante perciò il Tao è grande il cielo è grande la terra è grande ed anche il sovrano è grande nell'universo vi sono quattro grandezze ed il sovrano sta in una di esse l'uomo si conforma alla terra la terra si conforma al cielo il cielo si conforma al Tao il Tao si conforma alla spontaneità 26 la virtù del grave il grave è radice del leggero il quieto è signore dell'irrequieto per questo il santo viaggia tutto il giorno senza discostarsi dal bagaglio anche se possiede palazzi regali placidamente se ne sta distaccato che sarà se il signore di diecimila carri leggero si fa nel mondo se è leggero perde il fondamento se è irrequieto perde la sua signoria 27 l'uso dell'abilità chi ben viaggia non lascia solchi né impronte chi ben parla non ha pecche né biasimi chi ben conta non adopra bastoncelli né listelle chi ben chiude non usa sbarre né paletti eppure non si può aprire chi ben lega non usa corde né vincoli eppure non si può sciogliere per questo il santo sempre ben soccorre gli uomini e perciò non vi sono uomini respinti sempre bene soccorre le creature e perciò non vi sono creature respinte ciò si chiama trasfondere l'illuminazione così l'uomo che è buono è maestro dell'uomo non buono l'uomo che non è buono è profitto all'uomo buono chi non apprezza un tal maestro chi non ha caro un tal profitto anche se è sapiente cade in grave inganno questo si chiama il mistero essenziale 28 tornare alla semplicità chissà ad essere maschio e si mantiene femmina è la forra del mondo essendo la forra del mondo la virtù mai non si separa da lui e dei ritorna ad essere un pargolo chi sa ad essere candido e si mantiene oscuro è il modello del mondo essendo il modello del mondo la virtù mai non si scosta da lui e dei ritorna all'infinito chissà ad essere glorioso e si mantiene nell'ignominia è la valle del mondo essendo la valle del mondo la virtù sempre si ferma in lui e dei ritorna ad essere grezzo quando quel che è grezzo viene tagliato allora se ne fanno strumenti quando l'uomo santo ne usa allora ne fa i primi tra i ministri per questo il gran governo non danneggia 29 non agire quei che volendo tenere il mondo lo governa a mio parere non vi riuscirà giammai il mondo è un vaso sovrannaturale che non si può governare chi governa lo corrompe chi dirige lo svia poiché tra le creature taluna precede ed altra segue taluna è calda ed altra è fredda taluna è forte ed altra è debole taluna è tranquilla ed altra è pericolosa per questo il santo rifugge dall'eccesso rifugge dallo sperpero rifugge dal fasto 30 limitare le operazioni militari quei che col tau assiste il sovrano non fa violenza al mondo con le armi nelle sue imprese preferisce controbattere là dove stanziano le milizie nascono sterpi e rovi al seguito dei grandi eserciti vengono certo annate di miseria chi ben li adopra soccorre e basta non osa con essi acquistare potenza soccorre e non si esalta soccorre e non si gloria soccorre e non si insuperbisce soccorre quando non può farne a meno soccorre ma non fa violenza quel che si invigorisce all'orde cade vuol dire che non è conforme al tau ciò che non è conforme al tau presto finisce 31 desistere dalle operazioni militari ecco che sono le belle armi strumenti del malvagio che le creature hanno sempre detestati per questo non rimane chi pratica il tau il saggio che è pacifico tiene in pregio la sinistra chi adopra l'armi tiene in pregio la destra ecco che sono l'armi strumenti del malvagio non strumenti del saggio il quale li adopra solo se non può farne a meno avendo per supreme pace e quiete ei vince ma non se ne compiace chi se ne compiace gioisce nell'uccidere gli uomini ora chi gioisce nell'uccidere gli uomini non può attuare i suoi intenti nel mondo nelle gesta fauste si tiene in onore la sinistra nelle gesta in fauste si tiene in onore la destra il luogotenente sta alla sinistra il duce supremo sta alla destra assume il posto del rito funebre quei che gli uomini ha ucciso in massa li piange con cordoglio e con tristezza la vittoria in guerra gli assegna il posto del rito funebre 32 la virtù del santo il tao in eterno e senza nome è grezzo per quanto minimo sia nessuno al mondo è capace di fargli da ministro se principi e sovrani fossero capaci di attenervisi le diecimila creature da sé si sottometterebbero il cielo in mutuo accordo con la terra farebbe discendere suave rugiada e il popolo senza alcuno che lo comandi da sé troverebbe il giusto assetto quando si cominciò ad intagliare si ebbero i nomi tutto quello che a nome viene trattato come proprio perciò sappi contenerti chissà contenersi può non correre pericolo paragona la presenza del tao nel mondo ai fiumi e ai mari cui accorrono rivi e valli 33 la virtù del discernimento chi conosce gli altri è sapiente chi conosce se stesso è illuminato chi vince gli altri è potente chi vince se stesso è forte chi sa contentarsi è ricco chi strenuamente opera attua i suoi intenti a lungo dura chi non si diparte dal suo stato ha vita perenne quello che muore ma non perisce 34 confidare nel perfetto come è universale il gran tao può stare a sinistra come a destra in esso fidando vengono alla vita le creature ed esso non le rifiuta l'opera compiuta non chiama sua veste e nutre le creature ma non se ne fa signore esso che sempre non ha brame può essere nominato piccolo le creature ad esso si volgono ma esso non se ne fa signore può essere nominato grande poiché già mai si fa grande può realizzare la sua grandezza 35 la virtù della carità verso chi tiene in sé la grande immagine il mondo accorre accorre e non riceve danno ma calma e pace grandi attratto da musiche e bevande prelibate si ferma il viator che passa ma quel che al tao esce di bocca come è scipito non ha sapore a guardarlo non riesci a vederlo ad ascoltarlo non riesci ad udirlo ad usarlo non riesci ad esaurirlo 36 l'occulto e il palese quei che vuoi che si contragga devi farlo espandere quei che vuoi che si indebolisca devi farlo rafforzare quei che vuoi che rovini devi farlo prosperare a quei che vuoi che sia tolto devi dare questo è l'occulto e il palese mollezza e debolezza vincono durezza e forza al pesce non conviene abbandonare l'abisso gli strumenti profittevoli al regno non conviene mostrarli al popolo 37 esercitare il governo il Tao in eterno non agisce e nulla vè che non sia fatto se principi e sovrani fossero capaci da tenervisi le creature da sé si trasformerebbero quelli che per trasformarle bramassero operare io li acquieterei con la semplicità di quel che non ha nome anche se non avrebbero brame quando non han brame stanno quiete e il mondo da sé s'assesta 38 espone la virtù la virtù somma non si fa virtù per questo ha virtù la virtù inferiore non manca di farsi virtù per questo non ha virtù la virtù somma non agisce ma non ha necessità di agire la virtù inferiore agisce ma ha necessità di agire la somma carità agisce ma non ha necessità di agire la somma giustizia agisce ma non ha necessità di agire il sommo rito agisce e se non viene corrisposto si denuda le braccia e trascina a forza fu così che perduto il tao venne poi la virtù perduta la virtù venne poi la carità perduta la carità venne poi la giustizia perduta la giustizia venne poi il rito il rito è l'abilità della lealtà e della sincerità e foriero di disordine chi per primo conosce è fior nel tao e principio di ignoranza per questo l'uomo grande resta in ciò che è solido e non si sofferma in ciò che è labile resta nel frutto e non si sofferma nel fiore perciò respinge l'uno e preferisce l'altro 39 uniformarsi al fondamento in principio questi ottenner l'uno il cielo l'ottenne e per esso fu puro la terra l'ottenne e per esso fu tranquilla gli esseri sovrannaturali l'ottennero e per esso furono potenti la valle l'ottenne e per esso fu ricolma le creature l'ottennero e per esso vissero principi e sovrani l'ottennero e per esso furono retti nel governare il mondo costoro ne furono resi perfetti se il cielo non fosse puro per esso temerebbe di squarciarsi se la terra non fosse tranquilla per esso temerebbe difendersi se gli esseri sovrannaturali non fossero potenti per esso temerebbero di annullarsi se la valle non fosse ricolma per esso temerebbe di naridirsi se le creature non vivessero per esso temerebbero di spegnersi se principi e sovrani non fossero nobili e alti per esso temerebbero di cadere il nobile ha per fondamento il vile l'alto ha per basamento il basso perciò quando principi e sovrani chiamano se stessi l'orfano lo scarso di virtù l'incapace non è perché considerano l'orfondamento il vile ahimè no quando hai finito denumerare le parti del carro ancora non hai il carro non voler essere pregiato come giada né spregiato come pietra 40 dove andare e che adoperare il tornare è il movimento del Tao la debolezza è quel che adopra il Tao le diecimila creature che sono sotto il cielo hanno vita dall'essere l'essere ha vita dal non essere equipara le diversità quando il grandotto apprende il Tao lo pratica con tutte le sue forze quando il medio dotto apprende il Tao or lo conserva ed or lo perde quando l'infimo dotto apprende il Tao se ne fa grande risate se non fosse deriso non sarebbe degno d'essere il Tao perciò motti in val si dicono illuminarsi nel Tao è come ottenebrarsi avanzare nel Tao è come regredire spianarsi nel Tao è come incavarsi la virtù somma è come valle il gran candore è come ignominia la virtù vasta è come insufficienza la virtù salda è come esser volgo la naturale genuinità è come sbiadimento il gran quadrato non ha angoli il gran vaso tardi si completa il gran suono è una sonorità insonora la grande immagine non ha forma il Tao è nascosto e senza nome ma proprio perché è il Tao ben impresta e completa 42 le trasformazioni del Tao il Tao generò l'uno l'uno generò il due il due generò il tre il tre generò le diecimila creature le creature voltano le spalle allo yin e volgono il volto allo yang il qi infuso le rende armoniose ciò che l'uomo detesta è d'essere orfano scarso di virtù incapace eppur sovrani e duchi se ne fanno appellativi perciò tra le creature taluna diminuendosi si accresce taluna accrescendosi si diminuisce ciò che gli altri insegnano anch'io li insegno quelli che fan violenza non muoiono di morte naturale di questo farò l'avvio del mio insegnamento 43 lo strumento universale ciò che vedi più molle al mondo assoggetta ciò che vedi più duro al mondo quel che non ha esistenza penetra là dove non sono interstizi di questo so che vè profitto nel non agire all'insegnamento non detto al profitto del non agire pochi di quelli che sono sotto il cielo arrivano 44 il fermo ammonimento tra fama e persona che è più caro tra persone e beni che è più importante tra acquistare e perdere che è più penoso per questo chi ardentemente brama certo assai sperpera chi molto accumula certo assai perde chi sa accontentarsi non subisce oltraggio chi sa contenersi non corre pericolo e può durare a lungo 45 l'immensa virtù la grande completezza è come spezzettamento che nell'uso non si rompe la grande pienezza è come vuotezza che nell'uso non si esaurisce la grande dirittura è come sinuosità la grande abilità è come inettitudine la grande eloquenza è come balbettio l'agitazione finisce nell'algore la quiete finisce nel calore la pura quiete è la regola del mondo 46 esser parco nelle brame quando nel mondo vige il tau i cavalli veloci sono mandati a concimare i campi quando nel mondo non vige il tau i cavalli da battaglia vivono ai confini colpa non vè più grande che secondar le brame sventura non vè più grande che non saper accontentarsi difetto non vè più grande che bramar da acquistare quei che conosce la contentezza dell'accontentarsi sempre è contento 47 scrutare ciò che è lontano senza uscire dalla porta conosci il mondo senza guardare dalla finestra scorgi la via del cielo più lungi te ne vai meno conosci per questo il santo non va d'attorno eppur conosce non vede e più discerne non agisce eppur completa 48 obliare la sapienza chi si dedica allo studio ogni dì aggiunge chi pratica il tau ogni dì toglie toglie ed ancora toglie fino ad arrivare al non agire quando non agisce nulla vè che non sia fatto quei che regge il mondo sempre lo faccia senza imprendere se poi imprende non è atto a reggere il mondo 49 confidare nella virtù il santo non ha un cuore immutabile ha per cuore il cuore dei cento cognomi per me è bene ciò che hanno di buono ed è bene anche ciò che hanno di non buono la virtù li rende buoni per me è sincerità ciò che hanno di sincero ed è sincerità anche ciò che hanno di non sincero la virtù li rende sinceri il santo sta nel mondo tutto timoroso e per il mondo rende promiscuo il suo cuore i cento cognomi in lui affiggono occhi e orecchi e il santo li tratta come fanciulli 50 tenere in pregio la vita uscire è vivere entrare è morire seguaci della vita sono 3 su 10 seguaci della morte sono 3 su 10 gli uomini che la vita tramutano in disposizione alla morte sono pure essi 3 su 10 per qual motivo perché vivono l'intensità della vita or io ho appreso che chi ben nutre la vita va per deserti senza incontrar rinoceronti e tigri va tra gli eserciti senza indossar corazza e arme il rinoceronte non ha dove infilzare il corno la tigre non ha dove affondare l'artiglio il guerriero non ha dove immergere la spada per qual motivo perché costui non ha disposizione alla morte 51 la virtù che nutre il Tao le fa vivere la virtù le alleva con la materia da loro la forma con le vicende da loro la completezza per questo le creature tutte venerano il Tao e onorano la virtù venerare il Tao e onorare la virtù nessuno lo comanda ma viene e onor spontaneo quindi il Tao fa vivere la virtù alleva fa crescere sviluppa completa matura nutre ripara le fa vivere ma non le tiene come sue opera ma nulla si aspetta le fa crescere ma non le governa questa è la misteriosa virtù 52 volgersi all'origine il mondo ebbe un principio che fu la madre del mondo chi è pervenuto alla madre da essa conosce il figlio chi conosce il figlio e torna a conservare la madre fino alla morte non corre pericolo chi ostruisce il suo varco e chiude la sua porta per tutta la vita non ha travaglio chi spalanca il suo varco ed accresce le sue imprese per tutta la vita non ha scampo illuminazione è vedere il piccolo forza è attenersi alla mollezza chi fa uso della vista e torna ad introvertere lo sguardo non abbandona la persona alla rovina questo dice si praticare l'eterno 53 trarre profitto dalle prove se avessimo grande sapienza cammineremmo nella gran via e solo di agire temeremmo la gran via è assai piana ma la gente preferisce i sentieri quando il palazzo reale è troppo ben tenuto i campi sono del tutto incolti e i granai sono del tutto vuoti indossar vesti eleganti e ricamate portare alla cintura spade accuminate rimpinzarsi di vivande e di bevande e ricchezze e beni aver davanzo è sfarzo dal ladrone è contrario al Tao ahimè 54 coltivare e contemplare chi ben si fonda non viene di velto a chi ben stringe non viene tolto con questa via figli e nipoti gli offriranno sacrifici ininterrotti se la coltiva nella persona la sua vertu è la genuinità se la coltiva nella famiglia la sua vertu è la sovrabbondanza se la coltiva nel villaggio la sua virtu è la reverenza se la coltiva nel regno la sua virtu è la floridezza se la coltiva nel mondo la sua virtu è l'universalità per questo contempla le persone dalla sua persona contempla le famiglie dalla sua famiglia contempla i villaggi dal suo villaggio contempla i regni dal suo regno contempla il mondo dal suo mondo come so che il mondo è così da questo 55 il simbolo del mistero quei che racchiude in sé la della virtù è paragonabile ad un pargolo che velenosi insetti e serpi non attoscano belve feroci non artigliano uccelli rapaci non adunghiano deboli all'ossa e molli i muscoli eppur la sua stretta e salda ancora non sa dell'unione dei sessi eppur tutto si aderge è la perfezione dell'essenza tutto il giorno vagisce eppur non diviene fioco è la perfezione dell'armonia conoscer l'armonia è eternità conoscer l'eternità è illuminazione vivere smodatamente la vita è prodromo di sventura con la mente comandare al ci significa indurirsi quel che si invigorisce allora decade questo vuol dire che non è conforme al tau ciò che non è conforme al tau presto finisce 56 la misteriosa virtù quei che sa non parla quei che parla non sa chi ostruisce il suo varco chiude la sua porta smussa le sue punte districa i suoi nodi mitiga il suo splendore si rende simile alla sua polvere dice si accomunato col mistero per questo costui non può essere attirato né può essere respinto non può essere avvantaggiato né può essere danneggiato non può essere nobilitato 57 rendere puri i costumi quando con la correzione si governa il mondo con la falsità s'adopra all'armi il mondo si regge col non imprendere da che so che è così dal presente più numerosi ha il sovrano i giorni nefasti e le parole proibite più il popolo cade in miseria più numerosi ha il popolo gli strumenti profittevoli più i regni cadono nel disordine più numerosi hanno gli uomini gli artifici e le abilità più appaiono cose rare più si fa sfoggio di belle cose più numerosi si fanno ladri e briganti per questo il santo dice io non agisco e il popolo da sé si trasforma io amo la quiete e il popolo da sé si corregge io non imprendo e il popolo da sé si arricchisce io non bramo e il popolo da sé si fa semplice 58 adattarsi alle vicissitudini quando il governo di tutto si disinteressa il popolo è unito quando il governo in tutto si intromette il popolo è frammentato la fortuna si origina dalla sfortuna la sfortuna si nasconde nella fortuna chi ne conosce il culmine quei che non corregge la correzione si converte in falsità il bene si converte in presagio di sventura e ogni dì lo sconcerto del popolo si fa più profondo e più durevole per questo il santo è quadrato ma non taglia è incorrotto ma non ferisce è diritto ma non ostenta è luminoso ma non abbaglia 59 mantenersi nel tao nel governare gli uomini e nel servire il cielo nulla è meglio della parsimonia perché solo la parsimonia antepone l'ottenere anteporre l'ottenere significa accumulare virtù chi accumula virtù tutto sottomette quando tutto sottomette nessuno conosce il suo culmine quando nessuno conosce il suo culmine ei può possedere il regno chi possiede la madre del regno può durare a lungo questo si chiama affondare le radici e rinsaldare il tronco via della lunga vita e dell'eterna giovinezza 60 stare nella dignità regale governare un gran regno è come friggere pesciolini minuti quando si sovrintende al mondo con il tao i mani non mostrano la potenza loro non che i mani non abbiano potenza ma la potenza loro non nuoce agli uomini non che la potenza loro non nuoce agli uomini ma il santo non nuoce agli uomini questi due non si nuocciano fra loro per questo le virtù loro insieme confluiscono 61 la virtù dell'umiltà il gran regno che si tiene in basso è la confluenza del mondo è la femmina del mondo la femmina sempre vince il maschio con la quiete poiché chetamente se ne sta sottomessa per questo il gran regno che si pone al di sotto del piccolo regno attrae il piccolo regno il piccolo regno che sta al di sotto del gran regno attrae il gran regno l'uno si abbassa per attrarre l'altro attrae perché sta in basso il gran regno non ecceda per la brama di pascere ed unire gli altri il piccolo regno non ecceda per la brama d'essere accetto e servire gli altri affinché ciascuno ottenga ciò che brama al grande conviene tenersi in basso 62 praticare il tao ecco che cosa è il tao il rifugio delle creature tesoro per il buono protezione per il malvagio a parlarne con elogio si può ottenere mercato a seguirlo con rispetto si può emergere sugli altri degli uomini malvagi quale può essere respinto per questo si pone sul trono il figlio del cielo e si nominano i tre gran ministri anche se costoro hanno il gran pi per ottenere precedenza alla loro quadriga è meglio che se ne stiano seduti ad avanzare in questo tao qual era la ragione per cui gli antichi apprezzavano questo tao non dicevano forse ottiene chi con esso cerca con esso sfugge chi è in colpa per questo è ciò che vedi più prezioso al mondo 63 l'inizio favorevole pratica il non agire imprendi il non imprendere assapora l'insapore considera grande il piccolo e molto il poco ripaga il torto con la virtù progetta il difficile nel suo facile opera il grande nel suo piccolo le imprese più difficili sotto il cielo certo cominciano nel facile le imprese più grandi sotto il cielo certo cominciano nel piccolo per questo il santo non opera il grande e così può completare la sua grandezza chi promette alla leggera trova scarso credito chi reputa tutto facile trova tutto difficile per questo al santo tutto pare difficile e così nulla gli è 64 attenersi al piccolo quello che è fermo con facilità si trattiene quello che non è cominciato con facilità si divisa quello che è fragile con facilità si spezza quello che è minuto con facilità si disperde opera quando ancora non è in essere ordina quando ancora non è in disordine un albero che a braccia aperte si misura nasce da un minuscolo arboscello una torre di nove piani comincia con un cumulo di terra un viaggio di mille li principia da sotto il piede chi governa corrompe chi dirige svia per questo il santo non governa e perciò non corrompe non dirige e perciò non svia la gente nel condurre le proprie imprese sul punto di compierle sempre le guasta se curasse la fine come il principio allora non vi sarebbero imprese guaste per questo il santo brama quello che non è bramato e non pregia i beni che con difficoltà si ottengono studia quello che non viene studiato e ritorna su quello che gli altri han travalicato per favorire la spontaneità delle creature non osa agire 65 la pura virtù in antico chi ben praticava il tao con esso non rendeva per spicace il popolo ma con esso si sforzava di renderlo ottuso il popolo con difficoltà si governa poiché la sua sapienza è troppa perciò governare il regno con la sapienza è la rovina del regno governare il regno non con la sapienza è la prosperità del regno chissà queste due cose diviene simile al modello saper divenire simile al modello è la misteriosa virtù profonda e imperscrutabile è la misteriosa virtù e contrapposta alle creature ma alla fine arriva alla grande conformità 66 posporre se stesso la ragione per cui fiumi e mari possono essere sovrani di cento valli è che ben se ne tengono al di sotto perciò possono essere sovrani di cento valli così chi vuole stare di sopra al popolo con i detti se ne pone al di sotto chi vuole stare davanti al popolo con la persona adesso si pospone per questo il santo sta di sopra ed il popolo non è gravato sta davanti ed il popolo non è ostacolato così il mondo gioisce di sospingerlo innanzi e mai ne è sazio poiché non contende nessuno al mondo può muovergli contesa 67 le tre cose preziose tutti al mondo dicono che il mio tao è grande ma che sembra non esser simile a nulla proprio perché è grande sembra che non sia simile a nulla se fosse simile a qualcosa l'impacerebbe la sua piccolezza io ho tre cose preziose che mi tengo ben strette e custodisco la prima è la misericordia la seconda è la parsimonia la terza è il non ardire d'essere primo nel mondo sono misericordioso e perciò posso essere intrepido sono parsimonioso e perciò posso essere generoso non ardisco d'essere primo nel mondo e perciò posso essere capo degli strumenti perfetti oggi si è intrepidi trascurando la misericordia si è generosi trascurando la parsimonia si è primi trascurando di posporsi è la morte chi è misericordioso nel guerreggiare è vittorioso nel difendere è saldo quei che il cielo vuol salvare facendolo misericordioso lo preserva 68 rendersi uguale al cielo chi ben fa il capitano non è irruente chi ben guerreggia non è impetuoso chi ben vince il nemico non dà battaglia chi bene adopera gli uomini se ne pone al di sotto questa è la virtù del non contendere questa è la forza dell'adoprar gli uomini questo è rendersi uguale al cielo il culmine per gli antichi 69 l'uso del mistero sull'adoperar gli eserciti c'è un detto non oso far da padrone e faccio l'ospite non oso avanzar d'un pollice e indietreggio di un piede questo vuol dire che non vi sono truppe da schierare che non vi sono braccia da denudare che non vi sono armi da impugnare sventura non v'è maggiore che osteggiare alla leggera se osteggio alla leggera son vicino a perdere quel che m'è più prezioso perciò quando gli eserciti si mettono in campagna per scontrarsi quello che è più pietoso vince 70 la difficoltà di intendere le mie parole facilmente si intendono e facilmente si attuano ma nessuno al mondo sa intenderle nessuno al mondo sa attuarle le mie parole hanno un progenitore le mie imprese hanno un principe ma appunto perché non le intendono non intendono me poiché quelli che mi intendono sono rari quelli che mi imitano sono da tenere in pregio per questo il santo indossa rozze vesti e cela nel seno la giada 71 il difetto della sapienza somma cosa è l'ignoranza del sapiente insania è la sapienza dell'ignorante solo chi si affligge di questa insania non è insano il santo non è insano perché si affligge di questa insania per questo non è insano 72 aver cura di sé quando il popolo non teme la tua autorità allora sopravviene la grande autorità non trovare angusto ciò che ti dà pace non disgustarti di ciò che ti fa vivere poiché solo chi non se ne disgusta non disgusta per questo il santo di sé conosce ma di sé non fa mostra di sé ha cura ma di sé non fa pregio perciò respinge l'uno e preferisce l'altro 73 quel che lascia agire muore chi nell'osare pone il coraggio vive chi nel non osare pone il coraggio di questi due l'uno è profitto e l'altro è danno di quel che il cielo ha in odio chi conosce la ragione per questo il santo reputa difficile il primo la via del cielo è di ben vincere senza contendere è di ben suscitar risposta senza parlare è di ben attrarre senza chiamare è di ben divisare con ampiezza la rete del cielo tutto avvolge a maglie larghe ma nulla ne sfugge 74 reprimere gli inganni quando il popolo non teme di morire a che vale impaurirlo con la morte se faccio sì che il popolo sempre tema di morire e quei che induce in inganno io possa prenderlo e metterlo a morte chi sarà tanto ardito sempre mandi a morte chi ne ha la potestà mettere a morte invece di chi ne ha la potestà significa maneggiare l'ascia invece del gran mastro quelli che maneggiano l'ascia invece del gran mastro raramente non si feriscono le mani 75 i danni della cupidigia il popolo soffre la fame perché chi sta sopra divora troppe tasse ecco perché soffre la fame il popolo con difficoltà si governa perché chi sta sopra sa faccenda ecco perché con difficoltà si governa il popolo dà poca importanza alla morte perché chi sta sopra cerca l'intensità della vita ecco perché dà poca importanza alla morte solo chi non si ha faccenda per vivere è più saggio di chi la vita tiene in pregio 76 guardarsi dalla forza alla nascita l'uomo è molle e debole alla morte è duro e forte tutte le creature le erbe e le piante quando vivono sono molli e tenere quando muoiono sono aride e secche durezza e forza sono compagne della morte mollezza e debolezza sono compagne della vita per questo chi si fa forte con le armi non vince l'albero che è forte viene abbattuto quel che è forte e robusto sta in basso quel che è molle e debole sta in alto 77 la via del cielo la via del cielo come è simile all'armar l'arco quel che è alto viene abbassato quel che è basso viene innalzato quello che cede viene ridotto quel che difetta viene accresciuto la via del cielo è di diminuire a chi ha in eccedenza e di aggiungere a chi non ha a sufficienza non è così la via dell'uomo e diminuisce a chi non ha a sufficienza per donare a chi ha in eccedenza chi è capace di donare al mondo ciò che ha in eccedenza solo colui che pratica il tao per questo il santo opera ma nulla s'aspetta compiuta l'opera non rimane non vuole mostrare di eccellere 78 portare il fardello della sincerità nulla al mondo è più molle più debole dell'acqua eppur nella bradere ciò che è duro e forte nessuno riesce a superarla nell'uso nulla può cambiarla la debolezza vince la forza la mollezza vince la durezza al mondo non v'è nessuno che non lo sappia ma nessuno v'è che sia capace di attuarlo per questo il santo dice chi prende su di sé le sozzure del regno è signore dell'altare della terra e dei grani chi prende su di sé i mali del regno è sovrano del mondo un detto esatto che appare contraddittorio 79 ottemperare ai patti se cancelli un'offesa ma un po offeso rimani ancora credi che sia un bene se per contratto il saggio è creditore dal debitore non esige nulla adempia il proprio impegno chi è virtuoso bada agli impegni altrui chi non è virtuoso la via del cielo non fa parentele ma sta costantemente con il buono 80 isolarsi piccoli regni con pochi abitanti arnesi dal lavoro in luogo d'uomini sia in dieci o cento il popolo non usi tema la morte e fuori non emigri se anche vi son navigli e vi son carri il popolo non tenti di salirvi se anche vi son corrazze e vi son armi mai e poi mai le tiri fuori il popolo e ritorni ad usar nodi di corta e trovi gusto in cibi e vesti suoi ed ami la sua casa i suoi costumi se stati vi vedessero vicini tanto che cani e galli se ne udissero invecchino così fino alla morte quei due popoli senza alcun contatto 81 l'emersione del naturale parole autentiche non sono adorne parole adorne autentiche non sono colui che è buono non sfoggia parole e chi sfoggia parole non è buono chi sa di tutto certo non è saggio né chi è saggio di certo sa di tutto il vero saggio per sé non provvede se si spende negli altri per sé acquista e più dona più ottiene per sé stesso la via del cielo aiuta non fa danni la via del saggio agisce senza lotta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti